I rappresentanti delle società professionistiche che hanno voluto donarci di questa presenza, al quale dico che stiamo lavorando fortemente anche per loro, perché le loro squadre giovanili giocano sui nostri campi. Buce l'assessore Bianchi perché stiamo cercando di lavorare al meglio e credo che ci sarà una grandissima sinergia per l'ottima riuscita di questa iniziativa. Qui a Genova è il Presidente. Grazie, Simona Ferro, l'assessore Alessandra Bianchi alla Regione, al Comune di Genova che ci ospita in questa occasione, grazie a Giulio Inauti e a tutti gli amici presenti. È una bella occasione, un'occasione che come ricordava correttamente Giulio prima mette insieme la dimensione di un ottimo rapporto tra le istituzioni e i soggetti che rappresentano il mondo dello sport.